E ciao a tutti grazie e benvenuti in questo nuovo video del canale Oggi voglio parlare della collaborazione con Dottor Strange Prima che iniziamo vi dico di iscrivervi al canale Ativate la campanella e lasciate un bellissimo like Prima che iniziamo voglio dirvi che voglio arrivare ai 60 iscritti E ce la possiamo fare Comunque, iniziamo Let's keep the Dottor Strange della pagina 10 livello 100 del capitolo 3 stagione 2 Comunque, Dottor Strange secondo me non se lo merita proprio come l'ultima skin del pass Perché dovremmo dire la verità Già abbiamo troppe collaborazioni L'hanno aggiunto solo a livello 100 solo perché deve uscire il film In presenza del Dottor Strange Comunque deve uscire solo il film Però secondo me era meglio Probabile Non se lo merita proprio Almeno Spider me ne se lo merita perché È uno dei più grandi della Marvel Però Anche un po' Vabbè, Carnage era come Dottor Strange che doveva uscire il film Comunque, poi Come skin Non mi piace proprio come skin Sinceramente non piace, non la userò mai Che io vi invito a andare a vedere Vi invito ad andare a vedere il mio video perché io odio le collaborazioni di Fortnite E poi andate a vedere pure il commento che ho scritto che mi ero dimenticato a dire nel video Io vi invito e ve lo consiglio a darvelo a vedere e andare a leggere nei commenti il commento che ho dato Comunque che mi ero dimenticato nel video a dire Comunque Stavo dicendo Come collaborazione a me non piace Oltre alla Marvel Tante collaborazioni di Fortress non piacciono Però Io vi spoilerò Voglio spoilerarvi un video Che Predatore Alla skin Farò Cosa ne penso Della collaborazione Insieme a Predatore Alla skin segreta Del Questo nuissimo pass battaglia Comunque Come skin A me non piace troppo Perché È uno pure Delle peggiori skin Che Vedo l'ora Che viene alla fine Della stagione Ora sono le persone che dicono Ora inizia la stagione Sì Però Vedo l'ora che finisce la stagione Per fare il video Dalla peggiore Alla migliore Delle skin del pass battaglia Per Vedere cosa succede Però Io vi dico che La prima delle peggiori Non è tutto strange È un'altra skin Comunque A me Oltre come skin Non mi piace proprio Anche come Non Offendetemi Dite quello che volete Ma a me Dottor strange Non piace come serie TV Come la marvel Eccetera Come film Non mi piace proprio Offendetemi Dite quello che volete Ma a me Non piace Secondo me Almeno In questi 40 iscritti C'è qualcuno Che non gli piace Dottor strange C'è Per forza Che Impossibile Che tutti quanti Mi piace Vabbè Come dottor strange Almeno Secondo me Dottor strange Non se lo merita proprio Il livello 100 Perché Non gli hanno aggiunto niente Nella mappa Hanno aggiunto solo la skin Nel pass battaglia E ciao Invece Nemmeno carnage Non se lo meritava Il livello 100 Però L'hanno messa All'evelo 100 Perché doveva uscire Il film Eccetera Ma almeno Hanno aggiunto i poteri Nella mappa Invece Dottor strange No Chissà come sarebbe Questo 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 potere Comunque Ma Poi Secondo me Come Dottor strange Se lo merita La collaborazione Forza Che Si tratta Tipo Se avete visto Il trailer Tipo Esce Tipo Da un portale E ci sta Perché pure Tipo Un po' Forte Tipo Della galassia Cipro Mi ricordo Comunque Non vorrei Sbagliarmi Comunque Questo qua Io L'odio Sicuramente Non lo userei mai Secondo me E' una skin Perdita di tempo Secondo me Fatemelo dire Proprio A me Non piace Comunque Io vi invito A guardare Per chi Odio Le collaborazioni E Mi suggero Il video Per cosa ne penso Della collaborazione E già Ho detto Nel primo Nell'inizio Del video Che non piace E già Posso dire Tutto Perché Non hanno aggiunto Niente di lui Nella mappa Nemmeno Una città Nemmeno Un'arma Per lui Niente Niente di niente L'hanno aggiunto Nel pass battaglia E poi l'hanno salutato Dire ciao Comunque Questo qua Era Cosa ne penso Della collaborazione Insieme a Tutto stringi E noi ci vediamo Nel prossimo Nel prossimo video Ciao 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 ciao